iniziamo dalla fine dagli applausi dei tifosi del brindisi alla squadra al termine della gara nonostante una sconfitta pesantissima non tanto per la prestazione quanto nel punteggio comunque un boccone a mano amarissimo da digerire per tutti e il segnale però del rapporto dell'unità che si è venuta a creare con questo nuovo corso un patrimonio enorme che non va dissipato e qui la palla passa alla squadra la debacle di nocera riporta tutti sulla terra e mette in evidenza una volta per tutte la difficoltà di questo campionato domenica prossima i bianco azzurri dovranno fare conti con un'altra trasferta difficilissima in quel di altamura di fronte danna e compagni si ritroveranno una squadra forte costruita per stare nei piani alti della classifica e che vorrà vincere a tutti i costi tra le mura amiche per tornare nelle zone nobili della graduatoria una classifica cortissima quella del girone h 10 squadre in sei punti segnale chiaro di un equilibrio con pochi precedenti nel girone h del resto basta dare uno sguardo ai risultati della scorsa domenica per avere conferma di come tutte possano vincere o perdere contro tutte in casa brindisi ciro danucci intanto sta lavorando soprattutto sul morale sull'aspetto psicologico dei suoi ragazzi affinché la batosta di nocera inferiore in qualche modo possa trasformarsi in un punto di forza e non di debolezza